120 minuti su stazione 41 con Angelica Malbatani Pronti al volo, abbiamo appena scaraventato fuori dalla stanza Marco Renzi che non si riesce a mandarlo via, però il suo posto è stato preso a forza la Corrado Virgili, buongiorno Buongiorno Che sta minacciando Marco su tutto il pietro, la carnevale Però lui è revata tutto, non so se mi spiego Roba vecchia Cose vecchie Roba vecchia Allora ci stasse scrivendo Raffaella Ramini in diretta che dice che sente la nostra mancanza Povera Raffaella è stata stroncata da questa influenza Ma quest'anno è veramente terribile Quest'anno è devastata, Corrado era un ospite suo perché siete amici, amici, amici E ti ha abbandonato qui Raffa lo sa, io dico che è il mio miglior amico A posto, sono soddisfazioni È piacevole Per una ragazza insomma sentirsi dire Sì, sì, abbiamo un rapporto particolare Sì, sì, quindi ti ha convinto a venire qui da noi e poi ti ha ammollato E quindi accontentati È il destino Accontentati Senti Michela, tu lo conosci Corrado? Di nome Di fama Di colori, di disegni e di bellezza diffusa in questi anni Di nome e di colore Sì, sì Bellezza diffusa è una cosa che prendo e porto a casa Porta a casa perché Sono che non hai riferito a me Personalmente Ai tuoi lavori sicuramente sì Perché io ti ho conosciuto con la gazzaladra Sì Del dottor Macchi Che è un gioiello Non è un libro, è un gioiello È veramente bellissimo Tu hai trovato esattamente le immagini da disegnare Per raccontare quella storia poetica, delicatissima Che il dottor Macchi ha realizzato Ti ringrazio perché è un lavoro che ho veramente molto a cuore Perché rappresenta una fase particolare della mia vita E' stato proprio un lavoro fatto in totale libertà Le parole di Macchi che è un carissimo amico Una persona straordinaria Mi hanno proprio convinto a fare un lavoro A quella dolcezza orientale Poi lo inviteremo Macchi perché Sì, Macchi è straordinario La fonte infinita di storie originaria della Siria E quindi ha portato qui tutto il suo bagaglio Anche di sofferenza che quel popolo si porta dentro Quindi in quelle poesie che lui scrive In quelle storie così delicate C'è tutto questo E tu hai trovato il disegno ideale per questo Diciamo che è un lavoro particolarmente ispirato Macchi è una persona che ha un fascino incredibile Sì, è un grande carisma Quindi vi siete trovati benissimo Senti, raccontaci invece tu come hai cominciato questo viaggio Dentro al mondo dei disegni, dei cartoni animati Delle cose disegnate Da questo punto di vista per me È un trucco per restare piccolo La verità è un trucco Stai dicendo la verità Stai dicendo la verità In realtà per me è stato abbastanza semplice Fin da piccolo, fin da sempre Io mi ricordo che le mie maestre dicevano ai miei genitori Ma fatelo disegnare Evidentemente tutto il resto è un disastro E quindi è stata una strada Non mi sono mai preoccupato di guidarla Questa strada era normale Avrei fatto quello Come se l'avessi sempre saputo Sì, poi diciamo che durante la strada Ho capito alcune cose Quindi mi sono appassionato all'animazione Hai studiato tanto anche per questo Sì, diciamo che faccio parte di quella Quella vecchia generazione Pre-digitale In cui lo studio era una cosa che si doveva Artigliare con le unghie E quindi specialmente in un settore particolare Come quello dell'animazione E della computer grafica Questo è un messaggio che dobbiamo dare ai ragazzi oggi Anche se avete una passione Studiate però Si prendeva il treno Si andava a Milano a vedere una lezione di un'ora E oggi con YouTube è tutto molto più semplice E però è molto più superficiale se vogliamo Assolutamente sì Ne possiamo parlare se vuoi Anche una settimana penso ne possiamo parlare E quindi hai cominciato così Hai studiato, hai fatto E poi hai fatto l'incontro con le Winx anche Sì Le fattine magiche che si sono conquistate il mondo Guarda tu sovigli un po' Le Winx Le Winx è stato un periodo incredibile della mia vita Perché La due Sì È vero È una cosa particolare perché io sono marchigiano Sono andato a Fermo Ma ho incontrato le Winx a Roma Perché io già abitavo a Roma Perché ho fatto altri tipi di esperienze lavorative Nell'animazione Ho lavorato poi alla Rai E improvvisamente mi hanno contattato a Roma Quindi i guazzi marchigiani mi hanno cercato a Roma Perché stavano creando questa struttura Che si chiama Rainbow CGI Per diciamo portare le Winx al cinema E quindi da lì ho incontrato le Winx Ho capito che qual era il mondo Che fenomeno era E quindi è stata un'esperienza Molto bella Molto interessante Molto formativa Mi ha permesso di lavorare anche Su un livello internazionale Di confrontarmi con aziende internazionali Professionalmente è molto molto importante È un posto dove si dà spazio molto ai giovani Anche no? Al talento Questo fondatore era giovanissimo all'epoca Assolutamente sì Questo è verissimo È anche un posto dove si fa Industria di intrattenimento Si prova Quindi per me è stato bello Attraversare una fase della mia vita In quella struttura E poi puoi cambiare Ma semplicemente perché Realizzare i prodotti di animazione È un processo lunghissimo Un film Dall'inizio alla fine Più o meno la produzione dura tre anni Anche di più Pensavi che era una roba di un mese E quindi io ho avuto la fortuna Di avere un ruolo di direzione Ero direttore artistico per questa azienda Però tre anni si lavora solo Sempre nello stesso progetto E quindi dopo un po' Ho avuto l'esigenza di lavorare Su progetti più piccoli Più corti Più snelli Cambiare spesso soggetto È un creativo Se lo tieni dentro una gabbia Lunga tre anni Sì è un po' una costruzione Esiste il blocco del disegnatore Come quello dello scrittore Quotidiano Assolutamente sì Anche perché poi bisogna fare una distinzione Molto spesso si fa La confusione tra essere professionista E essere artista E sono due strade completamente diverse L'essere professionista L'esigenza è che ogni giorno Devi essere creativo E quindi bisogna Che anzi Esattamente Allora tot Sì a richiesta Come per noi giornalisti Tu alle tre bisogna che cominci a scrivere Perché se no Se ce l'hai l'ispirazione O non ce l'hai Te la fai venire Il blocco devi trovare Dei modi per aggirarlo quotidianamente Il problema è che queste sono cose Che tu fai con l'emozione Quindi l'importante è cercare sempre Quell'emozione lì Se no il blocco O comunque viene una cosa fredda E tu non le fai le cose fredde Mai Io ti ringrazio Però Ritorno al discorso Che dicevi tu prima Il segreto secondo me È rimanere bambino Quindi io faccio di tutto Per mettere da parte Ogni piccola emozione La metto tipo in un cassetto E poi quando serve Cerco di riaprirla Che bello Che grande fortuna Ci picchia Beh Sì da un certo punto di vista Mi sento fortunato Privilegiato Sì sì Io difficilmente mi annoio Eh ci credo Giochi con te stesso Sì è vero Senti Stai andando molto anche nelle scuole Stai incontrando molto i ragazzi Per quello di cui stavamo parlando Portando dentro al mondo dei cartoni animati Sì Allora E lo dico sempre Non lo faccio perché Ritengo che questa sia una missione Nei confronti dei ragazzi Sono onesto È una cosa che serve molto a me Avere un confronto E un continuo Diciamo scambio Di informazioni Con i bambini Con i ragazzi I ragazzi cambiano comunque Sì Mi costringono a essere sempre In forma Inveglio Esatto E di mettere sul tavolo Sempre qualcosa di creativo Però oltre questo Effettivamente ho trovato Una cosa su cui Mi impegno moltissimo Che è Un po' l'educazione visiva Perché queste nuove generazioni Sono degli analfabeti E questo è molto pericoloso Viene sottovalutato Non sanno più Non sanno Oppure Non abbiamo mai saputo fare In realtà Leggere Le immagini Come codice Se qualche anno fa Era meno importante Oggi è fondamentale E quindi questi ragazzi Dovono capire Che parlare con le immagini È un linguaggio È molto pericoloso Se non lo si sa gestire Ah perfetto Quindi le aiuti anche Sui social Con le loro immagini Con le loro situazioni Perché spesso non sanno Quello che fanno Quello che mettono in onda È tutto Io dico sempre Mi ricordo un po' Quando io da bambino Non capivo una parola d'inglese E cantichiavo Il mio inglese E non si sa che dicevo Pensavo che le canzoni Erano meravigliose Poi crescendo Ho imparato un po' di inglese E mi ricordo che cercavo Di canticchiare delle canzoni Assolutamente stupide Assurde A volte offensive E quindi bisogna conoscere Quello che si fa Esatto Quindi diventa una roba brutta No bello I ragazzini rispondono però Assolutamente Abbiamo parlato poche sere fa Degli atelier creativi Di questi spazi Dove si educa facendo Che bello Dobbiamo tornare indietro Stiamo tornando indietro Un pochino Ma in realtà Io lo propongo anche Molto per gli adulti Perché gli adulti E di questo sono convinto La passione per il disegno È una cosa È un'esigenza Che viene messa in un cassetto Lasciata lì Ma tutti hanno voglia Ma perché pensiamo Di non saperlo fare E questo è sbagliatissimo Questo è culturalmente Uno degli eroni più grossi Non si può dire Saper disegnare Non saper disegnare Ho disegnato una pecora Per dei bambini Delle elementari Hanno riso a lungo Perché è espressiva Ecco Perfetto Era brutta tanto Porella Era proprio infelice Era una nuvoletta Con le zampe Tipo sai Fai una cosa Era stilizzata Sì Molto stilizzata Diciamo proprio Archeologica Ne possiamo parlare Sì dai Parliamone Posso pagare È una frustrazione Che mi accompagna Da tanto Io credo sia un po' Un talento Che un pochettino Devi avere Un po' si educa Ma un minimo No Posso partire da zero Assolutamente Ma nessuno parte da zero Bisogna un attimo Riaprire quel cassetto Perché a tutti piace disegnare Tutti hanno l'esigenza Di creare qualcosa Mi piacerebbe Però mi sono resa A un certo punto Quindi bene Preso L'avremmo preso Ho trovato un maestro Senti ci facciamo Un'altra piccola pausa In musica Poi torniamo Con Corrado Virgili E con